Allora è veloce, c'è un treno fra 35 minuti, fammi tornare a casa dei miei figli. Allora c'è un treno fra 35 minuti, dice l'assessore, quindi vuole tornare da figli ed è giusto che sia così, ma oggi abbiamo un altro importante incontro di Compa, comunità e partecipazione. Vogliamo raccontare attraverso oltre 50 pannelli cosa vuole produrre questa amministrazione per la nuova Palermo. Oggi è il penultimo appuntamento con Compa, poi ne avremo uno a settembre che mette insieme tutti gli incontri che abbiamo fatto. Continuiamo e proviamo a presentare alla città il lavoro dei laboratori, in maniera particolare il laboratorio sulla mobilità. Con queste circa 50 tavole proviamo a fare vedere come sarà la Palermo fra alcuni anni, quando tutte le linee del tram saranno attive, quando tutte le piste ciclabili saranno attive. Non è un sogno, i pannelli non descrivono qualcosa che forse ci sarà, ma è ferma intenzione realizzare le cose che vedete nei pannelli per realizzare sempre una città più aperta, dove la mobilità sia importante e dove ogni cittadino ha contribuito a costruire questa idea di città.